Allora, progetto Cubo ci siamo, nuovo video, oggi parliamo di allenamento, abbiamo parlato di mentalità, abbiamo parlato di monitoraggio delle misure, oggi parliamo di allenamento. Come puoi vedere la mia lavagnetta non c'è più perché sto traslocando, ma questo non mi ferma a portare avanti il mio progetto Cubo, quindi con una creatività tipica di noi napoletani andiamo a parlare dei tre punti chiave dell'utilità dell'allenamento nel nostro percorso. Abbiamo visto che il corpo umano ha bisogno di più lati come nel Cubo per essere, per arrivare alla soluzione, ha bisogno di affrontare più lati, bisogna di affrontare più argomenti, bisogna di mettere insieme più cose per riuscire a portare a termine un percorso che ci dà un obiettivo, che è quello che ci siamo posti all'inizio, esempio voglio dimagrire, voglio mettere massa, voglio fare una gara, voglio correre, voglio performare come atleta in qualche sport eccetera, quindi non possiamo così per andare a fare un mini riassunto delle puntate precedenti pensare di fare una cosa alla volta, una cosa solo, curarci solo dell'alimentazione, curarci solo dell'allenamento senza andare a vedere il nostro percorso a 360 gradi. I 360 gradi si curano di fondamentalmente sei aspetti che sono la mentalità giusta, il monitoraggio del nostro percorso, l'allenamento, cioè quello di cui parliamo oggi, l'alimentazione che sarà il prossimo video, il movimento in generale inteso come tutto il movimento che non è l'allenamento sportivo, quindi la parte di attività fisica e lo stile di vita che sarà l'ultimo video che si occuperà di varie cose che ci possono essere molto molto utili come il sonno, l'idratazione, la gestione dello stress eccetera. Parlando di allenamento affrontiamo subito il punto 1 che è quello della forza come puoi vedere dal titolo. Il punto 1 ha tre sottotitoli che sono massa, tono e metabolismo. Perché? Partiamo dall'ultimo, metabolismo. Un errore molto comune è quello di pensare all'allenamento come una fonte di consumo calorico, quindi quanto brucio con questo allenamento, quante calorie consumo con mezz'ora di corsa, quante calorie brucia saltare la corda eccetera. Questo è un approccio errato all'allenamento perché focalizzarmi su quante calorie brucio durante l'allenamento mi porta soltanto ad avere frustrazione nel lungo periodo. Per il semplice fatto che le calorie consumate durante un allenamento, chiaramente parlo di persone normali, non parlo di un triatleta che magari nuota tre ore la mattina e corre quattro ore il pomeriggio o di un tenista professionista, ma parlo di noi che magari ci andiamo a allenare 3-4-5 volte a settimana per un'ora in palestra o a casa, dicevo le calorie consumate in un allenamento sono poche e sono calorie che sono facilmente ripristinabili con qualche cucchiaiata di burro di mandorle. Cosa vuol dire? Vuol dire che è molto più semplice risparmiare calorie con l'alimentazione che bruciare calorie con l'allenamento. Questo non vuol dire che devo mangiare poco perché quando mi alleno consumo poco, vuol dire che mi devo muovere tanto, mi devo allenare, ma devo stare molto attento a come mangio perché le calorie che posso buttare dentro mangiando rispetto a quelle che posso consumare allenandomi sono veramente sproporzionate. Facciamo un esempio, ieri mi sono fatto 3 km di corsa qui a un'andatura di 6 minuti al chilometro che non è niente di eccezionale ma neanche pienissimo, ho bruciato 220 calorie. Se mi mangio una cucchiaiata di burro di arachidi col cucchiaino piccolo però bella grossa ho fatto con le 220 calorie. Magari ho fatto un pochino meno ma insomma se mangio due cucchiaini siamo lì. Ho mangiato una barretta alle noccioline e sono 200 calorie. Sono come 20 minuti di corsa e comunque sono una bella fatica. Vogliamo fare un'ora di corsa? Sono 600 calorie andando a quel ritmo lì che è già comunque un ritmo abbastanza interessante e è facile se esco la sera a mangiarvi una pizza, patatina e birra fare 2000 calorie. Quindi ripeto non vuol dire che l'allenamento non ha senso dal punto di vista del consumo calorico perché ce l'ha e poi vedremo perché nel secondo punto. Ma la cosa più importante da sapere per quanto riguarda l'allenamento è che allenarsi serve a mantenere il nostro consumo calorico di base dato principalmente dal metabolismo appunto basale alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro corpo più ha una massa magra tonica più c'è muscolo nel nostro corpo più consuma calorie a riposo perché per mantenere quella massa magra devi utilizzare delle risorse energetiche. Ed è per questo che fare dieta più cardio piuttosto che dieta più pesi barra cardio ha molto più senso nel secondo punto perché se io vado a fare dieta più cardio e mi brucio tutta la massa muscolare perché non sto dando al mio corpo l'idea e lo stimolo deve mantenere la massa muscolare e questo stimolo viene dato dall'utilizzo dei pesi quindi dal lavoro di rinforzo di forza contro resistenza con dei pesi con qualcosa che devo spostare che devo sollevare il mio corpo non sarà stimolato a mantenere la massa magra quindi la dieta gli dirà di utilizzare un'energia dal mio corpo il cardio gli dirà che non gli serve mantenere tanto la massa muscolare perché tanto non sta sollevando dei pesi e di conseguenza andare a toglierne il più possibile di conseguenza il nostro impatto metabolico basale si abbassa e noi andiamo a bruciare sempre meno calorie. Teniamo presente che la maggior parte delle calorie bruciate nell'arco delle 24 ore è dato dal metabolismo basale quindi quanto consumiamo a riposo nelle 24 ore non da quanto ci alleniamo non da quanti passi facciamo non dalla digestione dei cibi dal metabolismo basale quindi l'impatto più importante che possiamo dare con l'allenamento è essere forti cosa vuol dire vuol dire essere tonici avere un tono muscolare importante avere una massa muscolare dura densa non vuol dire grossa vuol dire densa vuol dire che se taglio in due il mio muscolo come se fosse un albero ho tante fibre non è non è poco denso ma è bello bello pieno ok bello pieno di fibre quindi il lavoro contro resistenza se devo scegliere una tipologia di allenamento sono costretto a scegliere la cosa più importante assolutamente da fare è lavorare con dei sovraccarichi il sovraccarico può essere anche il mio corpo perché ho un peso 80 kg e se faccio 100 piegamenti al giorno sulle braccia o 100 trazioni sto spostando del peso ok di conseguenza la priorità va data al lavoro di rinforzo di forza di pesistica di resistenza quindi pesi corpo libero kettlebell quello che vogliamo ma non per dimagrire vado a correre ok per dimagrire crea un deficit calorico con l'alimentazione cosa che vedremo più avanti e mantengo la mia massa magra più attiva tonica e forte possibile maniera tale da avere un metabolismo sempre più alto possibile tenendo anche presente che per esempio se voglio dimagrire il mio metabolismo in ogni caso calerà se la mia dieta è giusta quindi se ho creato un deficit energetico il mio corpo comunque consumerà anche un pochino di massa muscolare ma il mio obiettivo è ritenerne il più possibile ok viceversa se voglio aumentare di massa muscolare a maggior ragione l'unico stimolo l'unica priorità importante è utilizzare dei sovraccarichi e soprattutto aumentare i sovraccarichi per il semplice fatto che il nostro corpo aggiunge muscolo in due casi o se non mi sono mai allenato quindi le prime volte è talmente forte la spinta anabolica quindi lo stimolo che diamo al nostro corpo a mettere su massa muscolare che probabilmente non ne abbiamo e quindi se ne crea tanta oppure solo se incremento i carichi se io adesso per come sono voglio aumentare la mia massa muscolare per forza di cose devo aumentare il peso che sollevo ok molto importante il lavoro di forza punto numero uno punto numero due lavoro metabolico cosa vuol dire lavoro metabolico vuol dire faccio io generalizzo un pochino non voglio scendere troppo nel tecnico perché le parole tecniche sono spesso incomprensibili lavoro metabolico intendo un lavoro cardiorespiratorio che vada a creare un condizionamento metabolico quindi una capacità di mettere in crisi sotto sforzo nel nostro apparato cardiovascolare e respiratorio per migliorarne le caratteristiche quindi uno degli ottimi motivi per fare un lavoro cardiorespiratorio che può essere un lavoro a intervalli può essere il famoso heat può essere del cardio di lunga durata anaerobico e lavoro aerobico di lunga durata basso con frequenze cardiache medio basse come la corsa il jogging il nuoto la bicicletta la remata sono tutti lavori che hanno principalmente una finalità quella di tenerci sani dal punto di vista cardiorespiratorio dal punto di vista cardiovascolare dal punto di vista cardiorespiratorio e dal punto di vista circolatorio perché andare a muovere tutto il corpo insieme in un movimento prolungato nel tempo stimola drasticamente il nostro sistema circolatorio e lo stimola a portare tutti gli elementi che servono per muoverci in tutte le zone del corpo la corsetta la corsa è un ottimo un ottimo ottimo modo per mettere insieme tutte queste cose qui soprattutto perché la corsa muove il nostro corpo nello spazio rispetto magari a una bicicletta dove il nostro corpo è fermo magari su una bicicletta in palestra o un rematore dove sono fermo su un macchinario il nuoto invece muove il nostro corpo nello spazio oltretutto contro una resistenza però il vuoto è più difficile da praticare perché ci serve un posto dove nuotare ed è anche molto molto faticoso esempio c'è stato un periodo per me nell'anno questo anno passato qui alla spalmas dove ho lavorato parecchio e c'è stato un periodo dove mi sono allenato soltanto con i pesi quindi andavo in palestra tre quattro volte a settimana e lavoravo con le macchine con la panca con lo squat con i macchinari quello che ho visto succedere e monitorando la mia frequenza cardiaca sulle 24 ore di conseguenza anche a riposo col mio tracker è che il mio battito a riposo è salito perché perché il mio cuore era meno allenato adesso che ho ripreso allenarmi con un lavoro di forza un lavoro metabolico dopo tre quattro settimane ho già abbassato il battito a riposo di quasi dieci battiti al minuto e che vuol dire che il mio cuore è più sano che vuol dire che in teoria facendo le corna dovrei vivere meglio e di più ok molto molto importante lo stesso discorso chiaramente vale per la mia capacità di utilizzare ossigeno che si chiama vo2 max la mia capacità anche polmonare di sfruttare l'ossigeno sotto sforzo e aumenta ho dei parametri per vederlo ci sono delle test che si possono fare e questo è un segno di migliore circolazione migliore capacità di utilizzo dei nutrienti migliori capacità metaboliche eccetera quindi questo tipo questa tipologia di lavoro è una tipologia di lavoro che è utile aggiungere al lavoro di forza quante volte poi di sono per noi per noi persone normali dal mio punto di vista fare 3 dalle 3 alle 5 volte a settimana un lavoro sugli esercizi fondamentali come lo squat come la panca piana come lo stacco da terra come la pressa o il bilanciere con i manubri come le trazioni anche assistite come il dip quindi le spinte per le braccia e un lavoro metabolico associato sempre dalle 3 alle 5 volte a settimana è ideale per mantenere un fisico in una forma ottimale ok lavoro metabolico ripeto può essere fatto alla maniera degli intervalli quindi magari un'intensità più alta in minor tempo oppure in un'accezione un pochino più lunga come può essere la corsa di mezz'ora di un'ora chi piace correre chi piace fare trekking chi piace andare in bicicletta chi piace nuotare ok questo è il secondo punto per quanto riguarda il terzo punto che è un pochino più breve è più facile da trattare lo stretching lo stretching o la mobilità in generale sono due cose che riassumiamo sotto la parola stretching sono molto importanti per vari motivi e sono uno i dolori quotidiani più sono mobile e molto probabilmente meno avrò dolori alle articolazioni avrò dolori alla muscolatura avrò dolore alla schiena avrò dolore al collo perché le tensioni muscolari generano delle problematiche dal punto di vista quasi sempre articolare o muscolare teniamo presente che non è solo il muscolo che si allunga quindi non è solo tirare un muscolo ma ci sono delle guaine chiamate miofasce che sono delle una sorta di rivestimento della nostra muscolatura che se mobilizzato tramite per esempio l'utilizzo dei foam roller che sono quei tubi su cui ci si massaggia sopra anche di massaggi evita di aderire alla muscolatura tenendo presente che queste miofasce non sono strettamente corrate al singolo muscolo ma sono distribuite su superfici più grosse è possibile che se ho delle queste guaine molto aderenti alla muscolatura in alcune parti del corpo vanno a creare delle tensioni anche in altre zone di conseguenza fare stretching e tenere le miofasce scollate diciamo così non troppo incollate alla muscolatura permette un buon passaggio di ossigeno permette il diciamo di non andare a creare queste tensioni muscolari che ci possono portare poi a svariate problematiche quasi sempre nella mia esperienza di questi vent'anni nel mondo del fitness ho visto che se non c'era bisogno chiaramente di un trattamento fisioterapico o medico una patologia particolare quasi tutti i dolori si sono sempre risolti con dello stretching e del massaggio miofasciale profondo fatto o autonomamente o con un terapista quindi di conseguenza il passaggio di ossigeno il passaggio circolatorio sotto cutaneo sotto le fasce muscolare migliora la situazione della circolazione di conseguenza migliora la situazione della cellulite di conseguenza migliora la situazione della ritenzione dell'acqua e tutti i discorsi che sono chiaramente a livello estetico e anche a livello di salute molto importanti non ultimo un discorso sugli infortuni lo dobbiamo fare perché meno sono mobile e più è facile che mi faccio male sia in allenamento che non in allenamento perché se il mio range di movimento quindi la possibilità di muovere un arto è molto limitato da tensioni se mi trovo in una situazione esempio cado sciando dove finisco in una leva sfavorevole magari con tutto il peso sul braccio e la mia mobilità è molto breve molto accorciata molto poca è possibile che questa tensione si vada a ripercuotere sull'articolazione su degli strappi o su delle problematiche di altro gene osse magari quindi uno dei buoni motivi per tenere le fasce e i muscoli mobili allungati e anche prevenire gli infortuni ok per quanto riguarda lo stretching all'inizio alla fine lontano dall'allenamento sicuramente farlo qualche minuto al giorno è molto meglio che farlo per ore una volta solo ogni tanto con costanza come per tutte le altre cose quindi quando mi alleno ci sono anche delle discipline un pochino più interessanti lo stretching fino a se stesso come per esempio lo yoga che possono essere utilizzate per migliorare la mobilità durante anche un esercizio un pochino più più divertente quindi mi raccomando lavoro di forza lavoro metabolico e stretching e quindi Grazie a tutti.